29 novembre 1987 Saper riconoscere il segno dei tempi L'uomo è formato di anima e di corpo. L'anima e lo spirito permeano di sé la materia condizionandola, così come la materia condiziona e limita lo spirito. L'una e l'altra si intersecano e si completano a vicenda. Dalla perfetta armonia di questi due elementi nasce l'uomo completo, capace di vivere la sua stessa natura, ma con lo spirito riconoscente e fedele al creatore. Quando uno di questi elementi soverchia l'altro, si ha un uomo imperfetto, non certamente quale Dio lo ha voluto. La materia dunque aiuta lo spirito a rivelarsi. Ecco perché l'uomo ha bisogno di segni, segni esteriori che aiutino non solo a far conoscere l'essenza stessa del pensiero, pensiero che è espressione dello spirito, ma a farlo recepire ad altri esseri formati anch'essi di anima, spirito e di materia, corpo. Quindi il corpo, attraverso i segni esteriori, trasmette tutto ciò che nel profondo l'anima sente, crede, ama. Il segno della croce ti rivela che quell'uomo è un seguace di Cristo. Attraverso quel segno tu lo individui tra una folla enorme di altri credenti appartenenti ad altre religioni. Il segno visibile dell'Eucaristia è il pane e il vino che il sacerdote consacra, il segno visibile del battessimo è l'acqua, della cresima, l'olio santo, eccetera. Ma anche nella vita comune, sociale, di ogni giorno è assolutamente indispensabile il segno. Cos'è la firma se non il segno visibile, se non l'accettazione di una determinata cosa, la nostra esplicita volontà che si rivela attraverso qualcosa di tangibile? Oggi il superuomo sorride ironico al credente che entrando in chiesa mette il dito nella pila dell'acqua santa e si segna, o che beve l'acqua scaturita miracolosamente in qualche luogo benedetto perché essa lo guarisca dai suoi mali? Non comprende, nel suo chiuso razionalismo, come quell'acqua sia un segno visibile di una fede profonda che mette in moto la potenza liberatrice di Dio Padre, la potenza salvatrice di Gesù Figlio e l'opera costante dello Spirito. E Maria? Questa madre soave e sollecita, sempre implorante per noi, non è lei che si manifesta attraverso segni concreti, l'acqua all'urd e recentemente ad Ulzio e con i segni nel sole, eccetera? Dio vuole arrivare a colpire la nostra povera materia, ad attrarre la nostra attenzione tanto fuorviata da tutto ciò che è materiale, che è carne, per arrivare allo Spirito e noi ridiamo del suo operare. Noi, superuomini, cerchiamo di spiegarci tutti i fenomeni in chiave sempre naturale, in chiave scientifica, come a volergli dare una lezione per la sua d'abbenaggine. Non si capisce se critica Dio, che si serve di questi mezzucci per arrivare all'uomo e in questo caso implicitamente ammette che quei segni vengono da Dio, o critica il credente che li ritiene veri e quindi validi e in questo caso non fa che mettere in evidenza la sua mancanza di fede. Eppure Gesù si è servito del fango per guarire un cieco nato. Forse l'autore della vita aveva bisogno del fango per guarire il cieco nato? Scorgere i segni nella nostra stessa vita, perché niente è casuale negli avvenimenti che si susseguono giorno dopo giorno. Individuare il disegno di Dio per ciascuno di noi, con umiltà cercare di non opporci ad esso, perché è disegno d'amore. Non dimenticare che Dio non ci impone mai la sua volontà e che gli artefici del nostro destino siamo soltanto noi. Se possedessimo soltanto un po' di umiltà, riusciremo forse a scorgere i segni dei tempi, quelli di ieri che ci aiuterebbero meglio a capire quelli attuali, quelli di oggi. Vedremo il perché di tanta angosciosa sollecitudine di Maria Santissima, nostra vera Madre, che appare in varie parti del mondo col suo santissimo corpo glorificato, ma corpo vero, fatto di carne e di sangue, per parlare al nostro spirito, ma anche al nostro corpo così schiavo di tutto ciò che è in materia. E come ci renderemmo conto che non possiamo più far neticare con inutili sofismi, che tutto è estremamente urgente, che non possiamo più perdere tempo, che dobbiamo semplicemente credere e lasciarci guidare con umiltà. Sì, con umiltà. O mio signore, ridacci la semplicità dell'infanzia per comprendere meglio il grande dono dei segni che tu ci dai. 30 novembre 1987 Durante la notte mi rivolgo a Nicola. Nicò, soffro tanto perché mi manchi. E Nicola No mamma, il tuo dolore è ancora più profondo perché senti che il tuo amore è impotente e non suscita nei tuoi figli altrettanto amore ed hai paura che il tuo amore non alimentato si congeli come già allora. L'invocazione che tu lanci continuamente a Gesù e al Padre insegnami ad amare tu che sei l'amore racchiude in sé un'altra invocazione Signore, fa che mi amino. Comprendi mamma? Tu non soffri perché hai perso un figlio al contrario hai guadagnato un figlio perché nessun figlio sulla terra fosse pure il migliore amerà la sua mamma come io ti amo. Il mio amore è totale, ti avvolge tutta, ti consola, ti guida, ti segue, ti proteggi allontana da te i pericoli è previdente, è completo io vivo con te e con te spazio nell'eternità ti parlo e tu mi ascolti anche se nel buio di una stanza come in questo momento in cui senti perfettamente quanto io ti dico anche se non mi vedi e ti aiuto nelle piccole cose pensi che io non ti baci e non ti accarezzi? Ti spalci io ti copro di carezze, mammozza mia Nico ma io vorrei carezzare i tuoi capelli che erano così belli Nicola mamma non pensare al mio corpo Nicola ma non mi hai detto che il tuo corpo è integro Nicola come se sorridesse sì mamma è integro e si conserva abbastanza bene fino a quando Dio piacerà e poi mamma Antonella è proprio sciocca potrei darle tutto l'amore di cui ho tanto bisogno un amore che investirebbe il suo spirito e lo renderebbe sereno ed anche perché no felice mentre lei mi allontana da sé certo non posso darle un amore fisico ma credimi quello è solo una componente non è tutto anzi è proprio il contrario ed ancora mamma tu continui a pregarmi di venire in aiuto a Carla che è ancora in preda alla disperazione non si rassegna la perdita della figlia morta in così tenera età telefona a lei e dille che apre il suo cuore a Lauretta che continuamente bussa il suo cuore di madre ella non può trincerarsi nella certezza assurda che i morti sono morti e che niente rimane di loro perché noi siamo vivi mentre i veri morti siete voi quando uccidete la fede la speranza l'amore Nico povera Margherita a volte mi chiedo in che cosa ha mancato mamma non pensare più al passato tanto oramai non puoi farci niente aiutala piuttosto con la preghiera Nico ti ha amato sì mamma anche se a modo suo improvvisamente mi rivolgo a Nicola ricordandogli che suor Lucy e suor Lucia la reggente avevano tanto pregato per lui Nicola la sua mamma che hanno pregato per me il nome Lucia è apportatore di luce così sono loro e poi mamma voglio ancora una volta ripetere che la sofferenza umana il dolore se non viene offerto produce ancora più danni solo se offerto in unione a Cristo si trasforma in purificazione e riscatto mamma è grande il dono che Gesù ci ha fatto di potere comunicare credimi Nico adesso che fai te ne vai Nicola mamma guarda che sei tu che ti stanchi io non mi stanco possiamo stare così vicini quanto tu vuoi allora abbiamo pregato insieme per i nostri defunti e in maniera particolare per Margherita e per i nonni ho sentito la sua partecipazione profonda profondissima specialmente quando nominavo i nonni 2 dicembre 1987 ieri non avevo fatto altro che rivolgermi a Nicola per la vista di Don Eugenio ma egli non mi rispondeva era solo silenzio notavo però che il mio Nicola mi si manifesta chiaramente quando il suo pensiero non è condizionato dal mio così è stamattina gli chiedo Nico cosa possiamo fare per Don Eugenio che ancora non guarisce che non può leggere bene e incontra difficoltà anche per il lavoro che ti riguarda Nicola mamma la parte più vulnerabile del suo corpo sono gli occhi e lì il nemico lo attacca Nico ma tu non puoi implorare il padre Gesù per lui Nicola mamma una volta ti ho detto che siete voi stessi che condizionate il nostro operato mi spiego la guarigione del corpo va di pari passo con quella dello spirito mentre Satana si serve del corpo per abbattere lo spirito Dio si serve del corpo ma per elevare lo spirito è l'eterna lotta di cui voi siete i veri protagonisti ecco perché vi dicevo che siete solo voi che determinate la nostra vittoria o la nostra sconfitta Don Eugenio deve essere forte indipendente distaccato lì per lì non riuscivo a capire il significato della parola indipendente mi cruciavo per questo Nicola mi viene in aiuto mamma vuole dire libero da condizionamenti continuo a non capire fino a quando Nicola non mi illumina con la frase Eugenio è calato nel covo del sinedrio 3 dicembre 1987 mi rivolgo al mio Nicola aiutami Nicola affinché nel trascrivere quello che tu questa notte mi hai rivelato circa la grande purificazione che investirà l'umanità intera io ti sia fedele se non nelle precise parole nel significato di esse Nicola mamma ascoltami io parlo direttamente al tuo cuore non c'è niente di più intimo profondo e vero perché anche tu mi ascolti con il cuore il nostro è un rapporto viscerale tra madre e figlio come lo era quando ero ancora nel tuo seno esso suscita ondate di amore di sensibilità di tenerezza che investono i nostri affetti più cari e che man mano si estendono in giri concentrici sempre più vasti la tua intelligenza è chiamata solo a registrare queste verità questi impulsi per poterli poi ricordare non dubitare mai della veridicità delle mie parole mamma vedi vedi mamma tutte le volte che ti si parla di grande tribolazione tutti i turbi temi di trovare contraddizioni vuoi saperne di più eppure sai bene che da molto tempo questo annunzio questo ammonimento risuona in tutte le parti del mondo gridato da anime prescelte da anime leggenti e la loro voce identica come proveniente da tanti ripetitori anche a te parecchio tempo fa è stata affidata a questa rivelazione non c'è contraddizione alcuna stanne certa non volerne sapere di più si serena e fiduciosa perché anche questa è fede sappi che non di castigo si tratta ma di purificazione perché fa parte di un disegno d'amore di Dio ed è un atto di amore ti dicevo che il grande trionfo di Maria Santissima consiste appunto nell'avere strappato a Satano una moltitudine immensa di anime che per i loro peccati già si avviavano alla dannazione eterna restano i veri perversi i negatori di Dio che rifiutano ogni misericordia per loro la tribolazione si trasformerà in castigo perché così hanno voluto adesso mamma si ferma nella fede e soprattutto nella speranza nessun avvenimento ti turbi io ti sono vicino ti guiderò vi prenderò per mano e nulla vi accadrà fine certa 4 dicembre 1987 Nicola ad Antonella per il mio tramite Antonella mia tu mi chiami mi imbocchi cerchi da me aiuti miracoli ma cosa posso darti di più che non ti ho dato nella mia lunga e penosa sofferenza io vedevo solo te il tuo bene tu eri il centro dei miei pensieri per te io offrivo a Gesù ogni mia angoscia ogni mio spasimo e dall'amore immenso che sentivo per te traevo la forza per non mollare per arrivare fino in fondo e per te ho immolato la mia vita ti ho indicato una strada una strada che io ho percorso per te per dimostrarti che era l'unica ma tu non l'hai seguita era lì il segreto della vittoria della rivincita hai cercato sostitutivi così fatui che ti stordissero e sapevi bene che avrebbero solo inaredito il tuo cuore rendendoti apatica e indifferenti a tutto piena di contraddizioni aspetti tutto dall'alto ma tu non fai un passo eppure noi operiamo nella misura in cui voi cooperate con noi niente vi viene imposto neppure la gioia neppure la felicità dovete cercarla dovete con umiltà chiederla non pensare che la gloria di cui ora sono in possesso mi sia stata offerta su di un piatto d'argento desideri che nella tua vita ci sia un uomo che la tua vita abbia uno scopo ma non hai bisogno di un uomo qualsiasi hai bisogno di un vero compagno che ti ami e ti sostenga per il resto dei tuoi giorni di un uomo che non ti faccia rimpiangere me e questo sarà per te un grande dono Antonella ma tu l'avrai solo se ti avvierai per quella strada che io ti ho indicata e che porta al dio di ogni bene adesso promettimi che non ti allontanerai da me perché sono io la tua salvezza non dubitare io ti ascolto ti sento tu parlami chiudendo gli occhi i nostri spiriti si incontreranno così ma devi crederlo 9 dicembre 1987 è da qualche giorno che prego per i defunti insieme a Nicola notando come la mia preghiera acquisti una forza che prima non aveva stamane Nicola me ne dà la spiegazione vedi mamma quando preghiamo assieme ed uniti a Gesù noi uniamo il cielo alla terra la nostra preghiera investe anzitutto la persona per la quale preghiamo ma poi si dilata in cerchi concentrici sempre più bassi investendo prima i parenti più prossimi per arrivare dopo a tutte le anime dei defunti di tutti coloro che muoiono in tutte le parti del mondo per esempio al cimitero di Sabaudia la nostra preghiera parte da me e da te e investe prima quelli che mi stanno accanto e poi tutte le anime di quel piccolo cimitero chiedo un po' confusa Nicola ma c'è un nesso tra l'anima che si purifica nel purgatorio e il corpo che giace nel cimitero forse dissolto da tempo? Nicola certo mamma non dimenticare che l'entità dell'uomo è composta di anime di corpo che pur essendo distinti tra loro non esiste l'una se non esiste l'altro l'anima che si purifica in purgatorio non purifica solo se stessa ma anche il corpo che è rimasto ancora sulla terra in attesa della resurrezione ecco perché i cimiteri sono definiti dalla chiesa luoghi santi mi turba un altro pensiero e i corpi dei dannati non tutti si salvano sento Nicola Restio a chiarire questo punto forse anch'io non sono pronta certamente egli prova dolore a questo pensiero 12 dicembre 1987 Don Eugenio mi aveva pregato di chiedere a Nicola come doveva comportarsi con quel gruppo di persone che egli riuniva da tempo in preghiera dato che si era accorto che qualche cosa non andava per delle incomprensioni che erano sorte in seno al gruppo stesso sicuramente per l'influsso di forze negative voleva sapere in particolare se doveva allontanarsi dal gruppo sia pure momentaneamente Nicola Eugenio tu non puoi allontanarti neppure per un periodo brevissimo dal gruppo perché il tuo stato sacerdotale è difesa e protezione per lo strumento esso inoltre assicura la sopravvivenza del gruppo devi fare così prima prega tu poi inizia la riunione con una preghiera comunitaria esorcizzante in modo da costringere il nemico a rivelarsi e ad uscì allo scoperto il pericolo non è quando Satana terrorizza incute paura dall'esterno ma quando agisce dall'interno è allora che egli distrugge le anime 14 dicembre 1987 stamane Nicola mamma l'altro giorno mi hai chiesto qual è il destino dei corpi dei dannati non sono stato io a non volerti rispondere ma eri tu che non eri pronta ad ascoltarmi adesso stai attenta ad ascoltarmi quando moriamo l'anima questa infinitesima particella del pensiero creativo di Dio che ha vissuto in noi l'esperienza terrena se in armonia perfetta col creatore ritorna alle origini attratta dall'onda infinita del suo amore essa diventa parte integrante di questo amore e rientra in possesso di tutte le prerogative che le erano state donate fin dall'inizio in Dio l'anima conosce il futuro non ha più limiti di tempo e di spazio può trovarsi contemporaneamente in cielo in terra in ogni luogo adorante osannante davanti al trono della Santissima Drenità o presso gli infermi degli ospedali per sostenerli e confortarli nella loro sofferenza o aiutarli a morire come la mia anima che può nello stesso istante essere accanto a te o vivere a Sabaudia nei luoghi che in vita ho amato e che continuo ad amare già altre volte ti ho detto che l'amore che porto per quei luoghi dove spesso mi diletto ad andare in spirito specie quando ci siete voi non è lo stesso di quello che sentivo allora quando esso era legato a considerazioni di utilità ora è solo un osanna al creatore una continua adorazione attraverso la natura un ringraziamento ininterrotto e l'amore che sento per ciascuno di voi è tutt'altra cosa rispetto a quello che provavo allora ma a tutto questo si arriva solo se si è riusciti a recidere tutti i legami che ci tenevano avvinti alla terra siano essi materiali o affettivi in una offerta che va oltre la vita ti dicevo che con la morte nulla mi è stato tolto che anzi ogni mia facoltà è stata potenziata all'infinito come l'amore per ciascuno di voi per le opere di Dio per il mio stesso corpo che io guardo con infinita riconoscenza perché da esso molto bene mi è venuto e nulla di male mi potrà più venire in contrapposizione a quanto sopra ti dirò delle altre anime che per loro grande sventura sono state sorprese dalla morte in stato di disgrazia il tuo cuore si rattrista mamma tale pensiero ma è una realtà una terribile realtà anche questa il loro spazio è ristretto non nel cielo da cui sono esclusi non nel purgatorio dove le anime pur soffrendo tanto vivono nell'amore nel desiderio e nella certezza di possedere un giorno Dio ma vagano nell'inferno e dall'inferno a quei luoghi nei quali si consumò la loro ultima tragedia sempre attratti da essi in un odio senza fine 17 dicembre 1987 ieri per tutto il giorno ho cercato la copia di una mia lettera diretta a fin di bene a persona irretita dal nemico ma non sono riuscita con disappunto a trovarla volevo mostrarla alla mia amica Maria Pia e Nicola mi dice mamma non ti ostinare a cercarla nello studio tanto non c'è e ti arrabbieresti inutilmente le troverai tutte in cielo questa mattina Nicola mamma gli scritti che vengono a te o direttamente da Gesù o dettate da me sono perle preziosissime e sono dono anche per te e tu dovresti averne grandissima cura era un rimprovero per avere smarito quella lettera e forse altre ne ho provato un grande dolore e ho pregato a Nicola di farmele trovare se possibile o di dettarmele ancora una volta poi Nicola mi dice mamma tutto quello che viene a voi dall'alto ammonimenti consigli o anche rimpoveri non sono che atti di amore se la persona a cui sono diretti ne prende consapevolezza e viene stimolata al pendimento essi si trasformano in purificazione e riscatto ma se comunicati ad altri suscitano in voi commenti si trasformano in giudizi mentre Gesù dice non giudicate se non volete essere giudicati 18 dicembre 1987 Nicola Stamane ascoltami mamma Dio ama di un amore particolarissimo e sofferente le anime che si trovano intrappolate sia pure per loro colpa nella rete di Satana queste anime implorano aiuto e il loro grido angosciato è perfettamente recepito dal suo cuore di padre e dal cuore di Gesù che per essi ha dato la sua vita in una sofferenza senza fine voi mamma non potete non amare queste anime se dite di amare Gesù perché vi allontanereste dal suo amore mi comprendi mamma se le parole che escono dalla loro bocca vi feriscono voi pensate subito che il vostro stesso nemico che le costringe a pronunziarle per ferire ed abbattere voi non prestatevi al suo gioco perverso ma amate queste anime più di voi stessi siano esse vostri figli o estranei aiutando Gesù con tutti i mezzi che egli stesso vi suggerisce mette a vostra disposizione affinché in nessun modo possiate essere divisi o allontanati dal suo amore 21 dicembre 1987 stamattina grande conversare con il mio Nicola in una comunione quasi sensibile tanto lo sentivo vicino Nicò ti ricordi quando venivi a prendere il caffè da noi? sì mamma e lo facevo sempre leggero con la scusa che ti faceva male mentre a me piaceva forte e poi mamma stamane ti voglio illuminare su verità che sarebbero fin troppo ovvie se vi avvicinaste ad esse con fede profonda e col desiderio vivo di conoscenza verità che la superficialità con cui vengono a volte trattate fa apparire sotto forma a dir poco di fantascienza il senso del gusto come del resto tutti gli altri sensi è prerogativa del corpo ma non per questo lo spirito ne è escluso perché essendo lo spirito parte integrante del corpo esso prova gioia soddisfazione e benessere nel gustare un buon piatto e queste sensazioni le trasmette al pensiero che le memorizza per poi ricordarle ti porto un esempio quando tu mi preannunziavi che a pranzo avrei trovato il ragù quello del tuo paese che tanto mi piaceva io in quello stesso momento ne sentivo già la fragranza e provavo le stesse sensazioni come se lo stessi gustando ma in realtà dovevo ancora mangiarlo questo per dirti che lo spirito partecipa ad ogni atto che il corpo compie è tutto ciò in una sintonia perfetta ti ho tante volte ripetuto che con il distacco dal corpo lo spirito non viene depauperato delle prerogative inerenti alla sua natura che vengono anzi potenziate comprendi ora che quando ti dico che io vivo la vostra stessa vita tale mia affermazione rientra in una logica perfetta quando tu prendi il caffè ed io ti sono accanto anche se materialmente non posso ingerire quel liquido provo le stesse sensazioni come se lo bevessi insieme a te e così quando vi sedete a tavola e mangiate quelle pietanze che tanto mi piacevano Nico tu ricordi il sapore buono delle pietanze che ti piacevano ma se io porto a tavola pietanze che si sono un po' bruciacchiate tu che fai? Nicola mamma come sei ingenua credi che io non mi accorga che si stavano bruciando? Quante volte ti chiamo per ricordarti di spegnere in tempo il fuoco ma tu non mi senti? Nico e se noi mangiamo una nuova pietanza che tu non hai mai assaggiato? Nicola ma ne conosco gli ingredienti e comprendo benissimo a che sapore corrispondono anzi ti dirò che quando combinate dei pastrocchi e mettete degli aromi che non legano con quel determinato cibo voi non ve ne rendete conto ma io sì Nico questa mattina mi fai proprio ridere ma dimmi e le anime del purgatorio Nicola mamma le anime del purgatorio partecipano alla vostra stessa vita nella misura della loro purificazione esse sono esenti da peccati perché Gesù nel perdonarli li ha loro rimessi con il suo stesso sangue ma esse debbono distaccarsi da tutti i ricordi e da tutti gli effetti terreni che hanno contribuito a ferire Dio fino a quando rese terse pure non saranno in grado di accogliere nella sua interezza l'amore di Dio e in lui riamare con spirito nuovo oggetti e persone che appartennero loro nell'esperienza terrena per farti comprendere meglio ti porto un paragone banale se in un bicchiere di cristallo c'è ancora del vino perché tu possa assaporare dell'ottimo cognac devi non solo buttare via il residuo di vino ma devi sciacquare bene il bicchiere perché diventi terzo ed in grado di trattenere l'aroma speciale del cognac che altrimenti andrebbe perduto così è delle anime del purgatorio Nico sei contento che andiamo da mio fratello il 24 dicembre? Nicola certo mamma io sono con voi tutti e ti dirò di più mentre prima il mio animo spesso non sereno non era in grado di godere appieno dell'incontro con i parenti perché di ognuno di essi ricordavo qualche cosa di negativo nei miei confronti ora immerso come sono nell'amore universale la mia gioia è completa 24 dicembre 1987 è da ieri mattina che mi cruciavo per non essere riuscita a mettere su carta quanto Nicola mi aveva fatto comprendere circa la paternità reale e non solo adottiva di Dio nei nostri confronti ma ora eccomi pronta mi diceva Nicola mamma la nostra anima è quella infinitesima particella del pensiero creativo di Dio che si stacca da Dio stesso nel momento della creazione per abitare il corpo di ciascuno di noi ed il corpo fa anch'esso parte della sua creazione così come il padre naturale l'uomo attraverso un piccolissimo frammento del suo corpo dà origine ad un nuovo essere il figlio ed egli è realmente padre a tutti gli effetti così è di Dio nei nostri riguardi ma l'uomo con il peccato ha infranto questo rapporto di figlio lanza con Dio ed ecco il figlio suo Gesù che con la sua umanità riallaccia l'uomo al padre e col suo sangue rende possibile il ritorno dell'uomo alle origini da cui è scaturito l'uomo in Dio ritorna ad essere parte integrante del suo spirito che è amore e quindi con lui condivide tutta la luce la gioia la felicità come vero figlio e non come figlio adottivo 26 dicembre 1987 Nicola Adone Eugenio per il mio tramite rispondendo ad alcuni suoi interrogativi che ti importa Eugenio di conoscere dove stanno i tuoi parenti defunti questa è solo mera curiosità la tua preghiera di sacerdote devi abbracciare tutte le anime del purgatorio e poi Eugenio la tua testimonianza su quanto state scrivendo di me deve essere completa totale e senza reticenze il tuo nome deve risultare per intero specialmente in quei punti nei quali vengono messi in evidenza i chiaroscuri della tua personalità perché la testimonianza stessa risulti più incisiva più vera e quindi più accettata da chi deve leggere più gradita a Dio che te ne renderà merito e non come vengono e mai citano se e non vengono